Ogni anno, il mese di giugno, a Napoli, si tiene un'importante fiera campionaria, la Fiera della Casa. Questa fiera viene visitata da migliari e migliari di persone e di famiglie napoletane, ed è di una di queste famiglie che vi vogliamo parlare, una tipica famiglia napoletana, una famiglia composta da padre, madre e 12 bambini. Alla Fiera della Casa, per milla lira, i poppicorno, papà, mi combrò. Ma venne Gigino, che fece il cretino, si prese la busta e me la schiatto. Alla Fiera della Casa, per milla lira, i poppicorno, papà, mi combrò. Ma venne Peppe, che sucuto a Gigino, che fece il cretino, che prese la busta e me la schiatto. Alla Fiera della Casa, per milla lira, i poppicorno, papà, mi combrò. Ma venne Ciro, che sputo in faccia Peppe, che sucuto a Gigino, che fece il cretino, che prese la busta e me la schiatto. Alla Fiera della Casa, per milla lira, i poppicorno, papà, mi combrò. E allora arrivò Gennaro, che piglio una pietra, ce la tirò a Ciro, che sputo in faccia Peppe, che sucuto a Gigino, che fece il cretino, che prese la busta e me la schiatto. Alla Fiera della Casa, per milla lira, i poppicorno, papà, mi combrò. E venne i guardio, che ci cacciò a tutti, cacciò a Peppe, cacciò a Gigino, cacciò a Carmine, cacciò a Ciro, cacciò a Tonino, cacciò a Becins, cacciò a Gepine, cacciò a Lella, cacciò a Mim, cacciò a Tonino, cacciò a... Grazie a tutti.